Il figlio del re nel pollaio, fiaba di sala paruta. Si racconta che c'era un ciabattino con tre figlie femmine, Peppa, Nina e Nunzia. Erano poveri in canna e il ciabattino girava per la campagna ad aggiustare scarpe, ma non poteva buscare un quattrino. La moglie a vederlo tornare a mani vuote, «Sciagurato!» gli diceva, «cosa metterò in pentola oggi?» E lui, stanco, disse alla figlia Nunzia, che era la più piccina, «Senti, vuoi venire con me per minestra?» E se ne andarono per i campi a cogliere erbe per la minestra. Arrivarono in un feudo e cercando erbe, Nunzia trovò una testa di finocchio così grossa che per quanto tirasse non riusciva a sradicarla e dovette chiamare suo padre. «Signor padre, signor padre, voglia guardare cosa ho trovato, non riesco a strapparla!» Ci si mise anche suo padre e tira tira si sradicò il finocchio e sotto comparve una botola aperta. Alla botola si affacciò un bel giovane. «Bella ragazza», disse, «cosa state cercando?» «Ne cosa volete che cerchiamo? Siamo morti di fame e cogliamo un po' di minestra». «Se siete povero, vi faccio arricchire io», disse il giovane al ciabattino. «Lasciatemi vostra figlia e io vi do un sacco di danari». Quel povero padre fece, «come, lasciarvi mia figlia?» Ma il giovane tanto disse che lo persuase, prese i danari e lasciò Nunzia che se ne scese sottoterra con quel giovane. Sottoterra c'era una casa così lussuosa che alla ragazza parve d'essere arrivata in paradiso. Cominciò una vita che poteva ben dirsi felice se non fosse che Nunzia, non sapeva più niente di suo padre né delle sue sorelle. Il ciabattino intanto aveva da mangiare polli e manzo tutti i giorni e se la passava bene. E Peppa e Nina gli dissero un giorno, «Padre, ci volete portare a trovare nostra sorella?» Andarono al posto dove avevano trovato il finocchio, bussarono alla botola e il giovane li fece entrare. Nunzia fu molto contenta di rivedere le sorelle e le portò a visitare tutta la casa. Solo una camera non la volle aprire. «Perché? Cosa c'è là dentro?» chiesero le sorelle tutte incuriosite. «Non lo so, perché non ci sono mai entrata neanch'io. Mio marito me l'ha proibito!» Poi si andò a pettinare e le sorelle vollero aiutarla. Le sciolsero la treccia e in mezzo alla treccia trovarono legata una chiave. «Questa?» disse la Peppa alla Nina sottovoce. «Deve essere la chiave della stanza che non ci ha voluto far vedere!» E facendo finta di pettinarla, le slegarono la chiave. Poi zitte e zitte andarono ad aprire la stanza. Nella stanza c'erano tante donne, chi ricamava, chi cuciva, chi tagliava, e cantavano «Facciamo pannolini e fasce per il figliol del re che nasce!» «Ah, nostra sorella aspetta un bambino e non ce l'aveva detto!» fecero le sorelle. Ma in quel momento le donne della stanza, accorgendosi d'esser viste da belle che erano, si fecero gialle gialle, brutte brutte e si trasformarono in lucertole e ramarri. La Peppa e la Nina scapparono via. Nunzia le vide tutte stravolte. «Cosa avete, sorelle mie?» «Niente, volevamo salutarti perché ora ce ne andiamo!» «Così presto?» «Ma sì, dobbiamo tornare a casa!» «Ma cosa aveva successo?» «Ebbene, ti abbiamo preso la chiave che avevi nella treccia, abbiamo aperto quella porta!» «Ah, sorelle mie!» «Questa sarà la mia rovina!» Difatti, quelle donne della stanza, che erano tante fate, andarono dal giovane che era loro prigioniero lì sotto terra e gli dissero «Sai, devi cacciar via tua moglie, subito!» «E perché?» disse lui con le lacrime agli occhi. «Lo devi cacciare via subito! Gli ordini sono ordini!» «Hai capito?» E quel povero sposo dovette andare da lei col cuore che gli si spezzava e dirle «Te ne devi andare subito da questa casa! Ordine delle fate! Se no, sono perduto!» «Le mie sorelle hanno fatto la mia rovina!» disse lei scoppiando in singhiozzi «E dove me ne andrò mai?» «Tieni questo gomitolo!» le disse lui «Legane un capo al pomo della porta e fallo rotolare!» «Dove finirà il gomitolo?» «Là, fermati!» Nunzia, disperata, obbedì «Il gomitolo rotola, rotola, cammina, cammina!» Non finiva mai Arrivò sotto il balcone ad un bellissimo palazzo e lì il gomito finì Era il palazzo del re Cristallo Nunzia chiamò e si affacciarono le cameriere «Per carità!» e la disse «Alloggiatemi per questa notte che non so dove rifugiarmi e aspetto davvero un bambino!» Perché intanto si era accorta che stava aspettando davvero un bambino Le cameriere andarono a dirlo al re Cristallo e alla regina e quelli risposero che non avrebbero aperto l'oro a chi che sia Bisogna sapere che il figliolo tanti anni prima era stato portato via dalle fate e non ne avevano più saputo nulla così erano pieni di diffidenza verso le donne forestiere disse la poveretta «Magari nel pollaio per una notte!» Le cameriere mosse a compassione tanto dissero al re e alla regina che la fecero accogliere nel pollaio e le portarono un po' di pane perché moriva di fame Volevano sapere la sua storia ma ella scuoteva il capo e non faceva che ripetere «Ah, se voi sapeste! Ah, se voi sapeste!» Quella stessa notte le nacque un bel bambino e una cameriera andò subito a dire alla regina «Maestà, che bel bambino che ha avuto questa forestiera! Somiglia tutto al suo figliolo!» E intanto le fate dissero al giovane che stava sempre sotto terra «Non sai che a tua moglie è nato un bel bambino? Vuoi venire a vederlo stasera?» «Magari mi ci portate!» Quella notte si sentì bussare alla porta del pollaio «Chi è?» «Apri! Sono io! Il padre del tuo bambino!» E Nunzia vide entrare il suo sposo che era il figlio del re rapito dalle fate e che ora le fate accompagnavano a vedere suo figlio. Entrò con tutte le fate dietro e il pollaio diventò tutto tappezzato d'oro il giaciglio ebbe una coltre ricamata d'oro la culla del bambino divenne d'oro e tutto risplendeva che pareva giorno e una musica suonava e le fate cantavano e ballavano e il re Uzzo cullava il bambino e diceva «Se mio padre lo sapesse che sei figlio di suo figlio tra fasce d'oro saresti fasciato tra culle d'oro saresti cullato notte e giorno starei con te dormi dormi figliolo di re» e le fate ballando s'affacciavano alla finestra e cantavano «I galli ancora non cantano l'orologio ancora non suona non è ora non è ora lasciamo loro e andiamo dalla regina s'affaccia una cameriera e le dice «Signora regina sapeste dalla forestiera stanno succedendo cose mai viste non è più pollaio è tutto luce come il paradiso si sente cantare una voce che sembra quella di vostro figlio state a sentire state a sentire» la regina andò alla porta del pollaio e stette a sentire ma in quel momento cantò un gallo e non si sentì più nulla e non si vide più luce la porta quel mattino a portare il caffè alla forestiera volle andarci la regina in persona «Mi volete dire chi c'era questa notte?» e lei «Eh non ve lo posso dire ma anche se potessi che vi direi? lo sapessi io chi viene?» e la regina «E chi può essere? E se fosse mio figlio?» e tanto disse e tanto fece che la forestiera le raccontò tutta la sua storia dal principio che lei era andata per minestra e tutto il resto «Allora voi siete la moglie di mio figlio» fece la regina abbracciandole baciandola e le disse «Stanotte domandali cosa ci vuole per liberarlo» alla notte alla stessa ora si adonarono le fate col figlio del re le fate si misero a ballare e lui a cullare suo figlio sempre cantando «Se mio padre lo sapesse che sei figlio di suo figlio tra fasce d'oro saresti fasciato tra culle d'oro saresti cullato notte e giorno starei con te dormi dormi figliolo di re» mentre le fate ballavano la sposa disse al marito «Dimmi cosa ci vuole per liberarti» lui rispose ci vuole che i galli non cantino che l'orologio non suoni che le campane nemmeno e con una tela celeste ricamata con la luna e le stelle che sembri di notte si ricopra la strada perché non si veda quando fa giorno una volta che il sole è già alto si tira via la tela e le fate diventano lucertole e ramarri e scappano via la mattina dopo il re fece gridare un bando né campane né orologio hanno da suonare e tutti i galli si hanno da ammazzare tutto fu preparato e alla notte alla solita ora le fate si misero a ballare e a suonare e lui cantava «Se mio padre lo sapesse che sei figlio di suo figlio tra fasce d'oro saresti fasciato tra culle d'oro saresti cullato notte e giorno starei con te dormi dormi figliolo di re» e le fate si affacciavano alla finestra cantando «I galli ancora non cantano l'orologio ancora non suona non è ora non è ora» fecero una nottata di balli e canti e sempre continuavano ad affacciarsi alla finestra e vedendo che era notte ripetevano «I galli ancora non cantano l'orologio ancora non suona non è ora non è ora» quando il sole fu a mezzo del cielo la tela fu tirata via chi diventò serpe chi ramarro e scapparono tutte il figlio del re e sua moglie abbracciarono il re e la regina essi restarono felici e contenti e noi altri siamo qui senza niente ti è piaciuto il video? allora metti like sostieni il canale è sufficiente un semplice like vuoi farmi sapere cosa ne pensi? lascia un commento ti risponderò anche questo può aiutare il canale e se ti è piaciuto questo audiolibro iscriviti e non dimenticare di attivare la campanella grazie